buonasera grazie per essere qui benvenuti benvenuti al circolo dei lettori che ringraziamo ovviamente per l'ospitalità per parlare insieme di un libro naturalmente con l'autrice del libro Marta Ciccolari-Micaldi che anche se l'avete appena fatto vi invito a salutare con un altro applauso se no perché invitare diciamo no poi ma no in realtà a parte gli scherzi Marta gioca in casa visto che sicuramente tantissimi tra voi la conoscono è un'autrice a questo punto posso definirti anche autrice che vive a Torino che ha lavorato molto in questa città in questo posto che quindi insomma gioco un po' in casa stasera ed è bello per questo essere oggi qui a parlare di questo libro per me personalmente particolarmente bello anche perché non facciamo qui un grande disclaimer perché se no diciamo diventa una recita io e Marta ci conosciamo da molti anni siamo amici quindi diciamo è un'occasione particolarmente felice eravamo qui quando uscì il mio primo libro e Marta fu la persona che lo presentò con me per me veramente bello essere qui a fare a ricambiare diciamo il favore e parlare di questo libro che è uscito per Rizzoli e si intitola sparire qui parleremo anche del titolo ma magari più avanti perché se questa platea non fosse composta da amici e parenti io a questo punto non potrei cavarmela soltanto dicendo che hai lavorato molto qui che sei di casa che sei un'autrice ma ti presenterei e direi che sei una giornalista che sei una guida letteraria e quindi hai fatto in questi anni un grande lavoro di racconto di spiegazione di divulgazione e di comprensione di quello che sono gli Stati Uniti il loro impatto nel mondo a livello culturale la loro identità e lo hai fatto in un modo o meglio utilizzando uno strumento che è quello della letteratura non solo raccontando gli Stati Uniti attraverso i grandi romanzi della letteratura statunitense ma anche portando delle persone negli Stati Uniti e facendogli visitare attraverso le guide non le guide turistiche diciamo i percorsi necessariamente più battuti ma attraverso i romanzi la letteratura che ci aiutano a comprendere tutto questo e quindi poi mi dirai se mi sbaglio ma il tuo lavoro fino a fino al giorno prima che uscisse questo libro è stato un lavoro di racconto degli Stati Uniti che ti ha vista un passo indietro cioè non eri tu al centro della scena ma tu facevi da mediatrice da traduttrice a volte utilizzando appoggiandoti molto nel raccontare gli Stati Uniti sulle parole che prendevi da questo o quell'altro romanzo che ci aiutavano a capire un luogo e questo libro tradisce forse un quelle aspettative se uno si aspetta di guardare comprare il primo libro di Marta Ciccolare Micaldi si aspetta di trovare magari l'America raccontata attraverso i romanzi della letteratura e chiaramente i romanzi della letteratura sono un grande pezzo di questo libro ma la protagonista di questo libro sei tu ed è una scelta molto coraggiosa perché io scrivo dei libri sui Stati Uniti e non ci sono mai nel libro ed è una scelta molto comoda diciamo per chi scrive un libro perché non espongo nulla di me non metto nulla di mio a parte diciamo quello che magari ho studiato ho capito mi rendo molto meno vulnerabile mentre invece scrivere un libro come questo in cui c'è moltissima America ma raccontato da un punto di vista chiaro da una persona che scrive in prima persona richiede secondo me una certa dose di coraggio e una certa dose anche di accettazione della vulnerabilità che comporta aprirsi comunque raccontare di sé dentro un posto dentro una storia e quindi la prima domanda che vorrei farti è anche la più banale forse ma è inevitabilmente la prima è come mai questo libro è quello che tu hai definito un memoir un libro che non non spiega l'America ma che ti racconta dei fatti accaduti in America ti racconta l'America vista da un punto di vista molto personale e molto tuo grazie a Francesco innanzitutto per essere qui io non potrei essere più contenta di aprire le danze di questo libro qua in casa con tante persone che mi conoscono perché sono la mia famiglia i miei amici ma anche tante persone che appunto appartengono a questa città e mi conoscono forse mi conosceranno per la prima volta stasera sicuramente gioco in casa vedo che avete caldo ma è un sentimento condiviso ho presentato appunto come ha detto Francesco il suo primo libro qui il 17 febbraio del 2020 lo ricordo bene perché poi dopo ci fu insomma quello che ci fu spero che non accada lo stesso tra un paio di settimane però appunto sono sono molto contenta e chiacchieravamo prima sono molto emozionata ma lo sono in una maniera molto serena ed è veramente una festa per me questa lo è in prima persona esattamente come come il libro io ho scritto un libro in prima persona in prima persona sin dall'inizio sin dal primo capitolo l'introduzione è davvero una porta dalla quale entrare però la prima frase del libro l'incipit racconta di me che perdo il mio nome su un taxi a New York perdo il mio nome e in realtà il nome che cos'è è la cosa che una delle cose che più ci caratterizzano Francesco Marta e tutti i vostri nomi ma è anche il fatto di averlo perso è anche un modo per far entrare chi legge subito dentro la storia perché io ho perso il mio nome al posto del mio nome ci può essere il nome di qualsiasi persona tra voi no io mi sono messa molto a nudo in questo libro ed era l'unico modo che pensavo potesse essere giusto per me per raccontare una terra una cultura un una società un mondo che difficilmente si mette a nudo e io invece volevo che che si mettesse a nudo anche l'America quindi si crea una connessione tra le mie esperienze e l'esperienza che voi chiunque lega questo libro può fare degli Stati Uniti gli Stati Uniti come sappiamo scusate ringrazio tantissimo Loretta per essere qui che arriva da Houston facciamo un applauso a Loretta un applauso a Loretta che è un po' di cui l'America la porta direttamente proprio da lì no da Houston dal Texas e gli Stati Uniti sono un paese che è insomma una cultura che arriva a noi mediata da un sacco di cose no dai film dalla letteratura appunto dalla politica dai 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 telefoni insomma tutto quei tantissime delle cose che noi consumiamo a livello culturale ma anche nella nostra vita quotidiana arrivano dagli Stati Uniti e per me non sarebbe bastato raccontare queste cose senza creare una senza spogliarle no di tutte queste narrazioni che che le precedono quindi per fare questo ho voluto e ho scelto anche di spogliare me stessa in primis del mio nome no il mio nome può diventare il vostro nome e sicuramente le mie esperienze lì negli Stati Uniti sono molto personali ma è un invito a vivere questo libro questa avventura questo viaggio in modo altrettanto personale e scoprire delle cose che che mi sono accadute negli Stati Uniti principalmente racconto delle mie esperienze negli Stati Uniti che potrebbero accadere anche a voi magari non nello stesso modo magari non nella stessa declinazione però ecco è proprio il tentativo di farvi vivere esattamente i sentimenti le emozioni le incomprensioni dubbi le illusioni le disillusioni che ho vissuto io in più c'è un'altra cosa molto meno passionale che è la seguente io mi occupo di letteratura americana da tanti anni più di quanti ne racconto nel libro insomma ho studiato letteratura americana da insomma dal 2007 e non contando gli anni sono 20 quasi 20 no non li contavo non li contavo perché mi fanno un po' effettivamente mi fanno mi fanno un po' spavento e ho preso il filo di quello che volevo dire in realtà no e tra tante cose che io ho letto la maggior parte delle cose che io ho letto che arrivavano dagli Stati Uniti sono la maggior parte una buona metà erano esattamente cose simili a questo libro e che in Italia io non trovavo il genere del memoir il fatto che una persona che non è interessante perché ricopre un particolare ruolo o non è famosa ma una persona qualsiasi come come sono io no una persona qualsiasi racconta una parte della sua vita una parte della sua vita che chiaramente deve essere interessante per chi legge perché però che cosa c'è di più interessante delle storie delle persone no dal dal mio punto di vista niente sono sono le storie delle persone che rendono interessante qualcosa no come le persone vivono un determinato fenomeno un determinato luogo anche una relazione no è sempre la storia di qualcuno che poi ci acchiappa e ce la fa ce la fa seguire quindi gli Stati Uniti la letteratura americana mi ha insegnato tantissimo a scrivere così e quando io mi sono messa davanti al mio computer la prima volta è andato liscio non ho pensato adesso scrivo un saggio divulgativo o un romanzo la prima cosa che ho pensato è stata ora scrivo un memoir o comunque una cosa in cui io sono la protagonista ma perché perché solo se io racconto la mia storia può emergere la storia degli Stati Uniti la catalogazione dei libri mi attacco a una cosa che stavi raccontando prima è sempre complessa tutti i discorsi sui generi che si parli di libri di film sono quei discorsi che a volte ci fanno discutere ed è impossibile arrivare a delle conclusioni assolute definitive perché non c'è la giuria che stabilisce il tuo libro di che genere è o meglio la giuria a volte il singolo libraio la singola libraia che poi decidono dove dove esporlo ma ragionare sui generi ci aiuta a ragionare poi di che cos'è in questo caso l'oggetto che abbiamo in mano e per esempio è un libro da cui comunque si imparano un sacco di cose sugli Stati Uniti non è stato scritto con l'intenzione di essere un saggio divulgativo ma è un libro che ottiene quell'obiettivo è anche un grande libro di viaggio i libri di viaggio sono un genere quando noi andiamo in libreria e andiamo nel reparto dei viaggi oggi scopriamo soprattutto guide turistiche che hanno una loro utilità per quanto oggi inferiore a quella di del passato ho pensato leggendolo che questo è il tipo di libro che vorrei trovare nella sezione viaggi della libreria che mi aiuta a conoscere un posto magari un posto in cui voglio andare e lo fa non segnalandomi i cinque alberghi migliori cinque ristoranti migliori ma raccontandomi com'è quel posto come vive quel posto anche la luce del del posto di cui stiamo parlando che sono gli Stati Uniti che per per le loro caratteristiche geografiche anche di conformazione del territorio culturali per il modo in cui ci sono super familiari e allo stesso modo molto alieni molto diversi quando andiamo in America viviamo questa strana sensazione ambivalente ambigua di trovarci continuamente in posti familiari anche se non ci siamo mai andati e di non capire tantissime delle cose che ci accadono ed è inevitabile che quell'esperienza come ogni viaggio cambi le persone chi va negli Stati Uniti non torna mai esattamente uguale a prima senza voler fare per questo diciamo quella roba sono andato in India ho trovato me stesso non è che diciamo scopri delle grandi verità ogni tanto può capitare se sei fortunato però gli Stati Uniti sono un posto che tende a deglutirti quando arrivi ti mastica e poi ti risputa scusate la metafora non gradevolissima ma è una sensazione che poi puoi avvertire in questo modo qui e ti risputa e sei una persona diversa e allora in che modo questi viaggi hanno ottenuto questo risultato su di te se volete scoprirlo diciamo le persone che vogliono scoprirlo lo trovano nel libro ma ti chiederei sinteticamente non in intenso di tempo ma che racchiuda un po' quello che c'è nel libro cosa ha fatto a te l'America come ti ha risputata l'America dopo che tu sei andata lì a farti accogliere ormai un sacco di tempo fa è difficile essere sintetica sicuramente la prima sensazione che mi viene in mente è quella che racconto nel primo capitolo quando sono andata alla Columbia University che immagino sia una sensazione condivisa da tantissime persone che frequentano gli Stati Uniti tanto o ci vivono io arrivavo da un contesto non vorrei essere indelicata italiano diciamo così adesso non vorrei dire torinese perché pare brutto veramente però in cui in Italia siamo tendenzialmente tendiamo a tenere la testa un po' bassa a non osare tanto soprattutto a Torino questo è da dire un contesto in cui un po' ci si muove nella sfera di quello che sai già di poter fare che non esiste tanto la possibilità di pensare che puoi fare quello che vuoi perché non hai tanto i mezzi forse ma perché non è neanche nella nostra cultura tanto noi ci guardiamo molto indietro e guardiamo molto poco in avanti il futuro per noi non è una cosa che si fa cioè non è una cosa concreta da dire domani o nel futuro di 5-6 anni cambio radicalmente è una cosa che è e io la prima volta che sono stata alla Columbia University lì proprio se leggerete il libro capirete poi man mano perché io ho sentito una sensazione che poi risento ogni volta e mi fa stare benissimo e quindi mi ha dato sicuramente pace cioè questa sensazione di testa bassa in qualche modo si annulla ma non si annulla soltanto si scoperchia e tu improvvisamente io almeno è come se riuscissi a guardare non solo in avanti ma davvero al futuro al futuro come un mondo di possibilità gli americani sono molto proiettati ripeto verso il futuro è una cosa che perlomeno a me non apparteneva vediamo se poi incontra anche il vostro la vostra condivisione quando e se lo leggerete quindi l'idea di poter fare qualcosa che prima non c'era l'idea di poter fare di essere una persona che qua non riuscivo a essere ed è uno sdoppiamento che io vivo effettivamente da 13 anni forse questo a livello psichiatrico ha un significato ma in ogni caso il sentimento che io provo ogni volta che vado negli Stati Uniti continua a essere questo nel bene e nel male perché poi questa tensione verso il futuro verso le cose che quel paese ti permette di fare e di sentire non sempre sono pacifiche gli Stati Uniti sono un paese estremamente controverso e anche questo genere di spinta verso il futuro può essere molto feroce e come magari su di me no perché arrivo da un contesto privilegiato sono una persona bianca che arriva dall'Italia con un certo tipo di background altre persone questa sensazione magari la sentono come una pressione persone che vivono lì minoranze eccetera però io ricordo esattamente questa sensazione qui che è descritta nel primo capitolo e che arriva fino alla fine no una connessione molto profonda con anche il mistero forse di quello che può succedere domani ma che può succedere davvero in maniera sorprendente anche il fatto di essere sempre sorpresa dalle cose che accadono lì dall'arresto di cui parlo nel primo capitolo alla conclusione poi in Colorado quella adrenalina lì è una cosa che ancora mi tiene molto legata agli Stati Uniti ed è quello che si compie non ho voluto dire questa parola fino alla fine perché volevo spiegarvi che cosa fosse ma per me questo è un concetto molto alto di libertà e la libertà forse è la colonna portante una delle colonne portanti più solide della cultura degli Stati Uniti ma entriamoci nel libro il libro è strutturato in capitoli ogni capitolo ruota attorno a un luogo degli Stati Uniti è un momento specifico in cui lo hai visitato per cui scopriamo qualcosa di questi posti anche attraverso gli occhi di una Marta che volta per volta è un po' diversa ma la prima frase di questo libro entriamoci proprio da qui anche perché è una domanda che a me capita spesso di sentirmi rivolgere non so mai come rispondere quindi sono curioso di vedere come rispondi tu per prendere ispirazione no in realtà no perché poi la so un po' la risposta ma la prima frase del libro dell'introduzione è questa è la storia di una passione e a chi si occupa di una cosa precisa come nel tuo caso ma capita anche a me di Stati Uniti ed America in modi diversi spesso capita di sentirsi rivolgere la domanda ovviamente più che legittima sul come sia nata questa passione ed è una cosa che tu poi racconti dentro il libro è un piccolo spoiler c'è già nella dedica di questo libro che è rivolta a una persona che si chiama Barbara Lanati che poi ritorna nel corso del libro ci racconti com'è nata questa passione? come certo ero all'università era il 2007 appunto era il 2007 e io ormai ero verso la fine dell'università dei miei corsi avevo seguito tantissimi corsi di letteratura letterature varie io mi sono lavorata in critica letteraria e facevo anche indirizzo letterature comparate che non vuol dire nient'altro se non studiare tante letterature diverse e poi cercare di metterle insieme con connessioni, differenze eccetera l'ultimo mio corso all'università fu il corso di Barbara Lanati nel quale le cose funzionavano in maniera completamente diversa da tutti gli altri corsi io non so se qualcuno la conosce o è stata tua allieva ma tu entravi in classe da Barbara e sostanzialmente lei si sedeva e iniziavamo a chiacchierare chiacchierare non soltanto delle cose più normali della nostra vita ma chiacchierare si partiva sempre da lì e poi arrivavamo ai libri e la prima cosa che lei ci chiedeva di questi libri che ovviamente lei ci spiegava, ci raccontava però la prima cosa che ci chiedeva era se questi libri ci erano piaciuti e perché e nessuno ce l'aveva chiesto fino a quel momento, non in classe ma neanche agli esami ci veniva chiesto se un libro ci piaceva e perché quelle domande chiaramente non erano gratuite Barbara Lanati è stata una professoressa che ha cambiato la vita a tantissime persone innanzitutto validava la tua opinione che non è poco davvero nell'università italiana validava la tua opinione e ti permetteva di entrare nei libri con un approccio totalmente personale che non doveva dimostrare niente né a lei perché a lei non interessava che noi facessimo l'analisi delle correzioni di Franzen, a lei interessava che noi discutessimo delle correzioni di Franzen ci leggeva dei pezzi anche dei brani di letteratura particolarmente forti se qualcuno vuole sperimentare, fare questa esperienza di lettura Stanley Elkin, autore postmoderno Scena, una orsa stupra un uomo e quest'uomo inizialmente viene stuprato poi inizia a prenderci gusto in questo rapporto sessuale con un'orsa immaginate discutere di questo in una classe di 30-50 ragazzi e ragazze di 23-24 anni niente era gratuito lei poi ci raccontava, mentre noi chiacchieravamo di questo discutevamo di questo discutevamo di come ci faceva sentire questa scena o il soffocamento nel libro di Jonathan Franzen o la sospensione dei racconti di Carver o la violenza e la passione appunto nei libri di Toni Morrison tutte queste cose erano ovviamente funzionali per conoscere la letteratura e gli Stati Uniti e noi come ci sentivamo nei confronti di quella cosa lì e a parte che nacquero amicizie fortissime nacquero amori e dissapori anche ovviamente in quella classe proprio perché questa cosa ci aveva unito ma poi ci aveva dato la possibilità di intendere i libri la letteratura come una cosa viva e come una cosa in cui noi realmente potevamo entrare senza rinunciare a niente di noi stessi e di noi stesse è un approccio molto paritario e questa cosa mi sconvolse mi sconvolse perché perché poi io capì in quel corso che anche gli Stati Uniti erano quella roba lì cioè gli Stati Uniti sono un posto in cui tu puoi entrare e puoi essere senza rinunciare a niente di te oltre al fatto che la letteratura da quel momento per me divenne una chiave proprio uno strumento un modo per analizzare il mondo e io mi sono innamorata di questo approccio in primis poi ho fatto un master in American Studies e la presenza di Barbara non c'era più e si sentiva ma l'approccio era sempre quello era l'approccio all'americana che è una cosa che io ho cercato di mantenere sempre io quando tengo i corsi di letteratura americana una delle prime cose che chiedo o anche quando faccio i book writers questi tour letterari negli Stati Uniti e come è andata con questo libro? Ti è piaciuto? E da lì parte una discussione che rende il lettore e la lettrice dentro quel mondo e per me questo è diventato una cosa totalmente irrinunciabile che effettivamente forse risponde anche alla prima domanda poi Certo ma in diversi dei viaggi che sono raccontati nel libro la letteratura è non solo un elemento di contesto ma in qualche caso anche la forza motrice o la ragione per cui ti trovi in un certo posto vi raccontavo prima che i capitoli del libro sono dedicati a degli singoli luoghi dell'America in alcuni posti sei stata più volte sei stata magari per lavoro o in vacanza o per i cavoli tuoi c'è un posto che racconti in uno dei primi capitoli del libro in cui vai sulle tracce di uno scrittore e quando arrivi in questo posto scrivi questo non c'era scenario meno plausibile dove inserire un grande scrittore dove a dirla tutta inserire nessuna persona che in qualche modo ci tenesse alla vita per com'è nell'era contemporanea l'America rurale mi appariva come un luogo senza età dove il tempo della terra da coltivare quello della storia da preservare si erano stretti in un matrimonio in cui nessun amante mai avrebbe potuto interferire dove le mattine erano buie e le sere silenziose dove le case erano belle ma le loro tende minacciose dove la vita andava avanti modesta ma come lei anche i sentimenti la conoscenza, le relazioni dove in ultimo il territorio i suoi animali i fiumi, i vapori, le stelle, gli alberi e ogni zolla di terra battuta dagli elementi fino ai confini di quelle linee infinite aveva un potere che l'uomo o la donna non avrebbero potuto eguagliare mai dominare gli animi correggere gli eccessi assorbire ogni piccolo grande grido in un sorriso di circostanza cosa ci facevi tu lì? cioè al di là del grande scrittore che adesso magari ci racconti tu perché eri lì? e dov'è questo lì soprattutto? allora è lì questa la racconto dall'inizio che così crea un po' di suspense un giorno la mia migliore amica Valeria Sesa con cui ho iniziato poi anche a lavorare la nostra passione per gli Stati Uniti era già sbocciata ci eravamo conosciute al corso con Barbara Lanati e lei mi dice mi manda questo messaggio e mi dice ti mando in Illinois per un mese e io le risposi proprio ma che cazzo dici? mi sembra la risposta più sensata da dare diciamo insomma lei mi manda un bando un bando online non ha fatto la mecenate pensavo che ti andava ti dava la carta di credit ti diceva vai in Illinois però da una migliore amica uno si può aspettare e insomma mi mandò questo bando di un programma organizzato che adesso purtroppo non c'è più un programma di scambio professionale che era organizzato dal Rotary Club e io che ero forse insomma l'anti come dire ero un po' restia diciamo così non voglio usare termini troppo forti però dicevo ma cosa centro io con il Rotary Club perché devo andare a fare però in quel caso e lì si aprì davvero un mondo il Rotary Club organizzava questo scambio professionale con un puro scopo filantropico cioè portare cinque professionisti di cinque professioni totalmente diverse le une dalle altre nell'Illinois centrale nella parte rurale dell'Illinois quindi nella provincia americana più profonda per farti fare delle esperienze simili alle tue del tuo lavoro senza chiedere nulla in cambio purtroppo dico non c'è più perché io superai le mie resistenze iniziali partecipai a questo bando lo vinsi insieme ad altri quattro e andammo a conoscere i vari Rotary Club di questi posti di cui parla poi anche l'autore di questi insomma lo scrittore di cui parlo perché il Rotary Club negli Stati Uniti il Rotary Club qua è un'associazione un'ente un'organizzazione molto elitaria negli Stati Uniti non lo è per niente zero partecipa non c'è una quota a che devi versare per partecipare si occupa il Rotary Club in ogni piccolo paesino della gestione delle cose della comunità cioè da fare la staccionata dell'asilo tutte le persone partecipano per quello che possono ci sono appunto degli anziani magari di cui prendersi cura e ognuno dà i propri turni è proprio un'associazione vera e propria che sostituisce anche in qualche modo forse la scarsa rete sociale che c'è da quelle parti e quindi noi andammo a fare questa esperienza di un mese con una timeline con una tabella di marcia degna di un marine perché avevamo le giornate i miei genitori se lo ricorderanno veramente cadenzate di appuntamenti sia collettivi e quindi andavamo a vedere fabbriche grandi magazzini tantissime fattorie e farms con i bufali i cavalli i cowboy studi dentistici insomma cose generali e poi ognuno faceva le attività legate al proprio lavoro quindi io ho visitato piccole redazioni di giornali ho visitato le università ho conosciuto degli scrittori ho conosciuto poi la persona di cui racconto nel secondo capitolo ma soprattutto la cosa che ho conosciuto di più in assoluto ed è la cosa che poi ha dato un twist totalmente al mio lavoro e alla mia vita è stata la provincia americana quello che descrivo nel libro innanzitutto la questa è una cosa di cui io l'abbiamo parlato tanto anche nei nostri viaggi così come tante delle persone che sono qui la percezione dello spazio quando si sta negli Stati Uniti percorrere lo spazio vivere quel vuoto andare dal punto A al punto B dal punto A al punto B non c'è niente se non campi di grano campi di grano campi di grano campi di grano ore 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 di campi di grano in cui non c'è niente altro ho il deserto il deserto il deserto non c'è niente altro quella cosa lì per una persona europea è un'esperienza fortissima che ti scuote ovunque tu sia che tu sia in Nevada che tu sia in Illinois o appunto in Florida insomma cambiano i paesaggi ma quella il vivere è proprio lo spazio e io scoprì questo scoprì le persone come le famiglie anche i professionisti come me che facevano un lavoro appunto simile a quello che facevo io lì ed era tutto diverso e quindi la conoscenza dell'America di provincia dell'America rurale era il 2013 poi l'America rurale sarebbe stata sotto i riflettori insomma solo qualche anno più tardi però per me era un'esperienza completamente nuova che riuscì a vivere per pura fortuna ma ecco anche lì la fortuna negli Stati Uniti si tratta ogni tanto solo di aprire la bocca e parlare perché riuscì a ripercorrere le orme e la vita di David Foster Wallace che era uno scrittore a cui ero molto legata è uno scrittore a cui sono molto legata grazie alla conoscenza di un suo caro amico che non sapeva nulla di me cioè Charles Harris che purtroppo oggi non c'è più non sapeva niente di me io era una ragazza che arrivava dall'Italia sì arrivavo con un buon curriculum punto e lui mi portò si dedicò a me per due giorni e mi portò in tutte queste strade a conoscere la vita che faceva uno dei miei scrittori preferiti e da lì le mie riflessioni ma che cosa ci faceva uno scrittore così potente così grande così anche intellettualmente tormentato come David Foster Wallace nelle campagne dell'Illinois e poi lo scoprì nel libro trovate appunto anche questo ma c'è un'altra cosa che racconti in questo capitolo che ho trovato molto efficace perché descrive bene la sensazione che raccontavi tu anche prima di smarrimento a volte davanti alla provincia americana e questo trovare certe cose familiari senza che lo siano per esempio una morfologia tutta europea scrivi che non sapevo di vivere finché non ero arrivato in Illinois vuole che gli edifici e gli elementi di una città o di un qualsiasi altro spazio urbano ci parlino prima ancora di averli penetrati in Europa effettivamente una chiesa scusate una chiesa da fuori è subito una chiesa il municipio la fabbrica la banca l'ospedale un centro commerciale spesso anche locali discoteche pub la biblioteca l'università ci comunicano di impatto già da fuori cosa si trova al loro interno quindi cosa sono anche solo passandovi di fianco da una strada per non parlare poi dei palazzi storici o residenziali che a seconda di come è costruita e ornata la loro facciata ci raccontano un pezzo di storia ci portano indietro nel tempo a date e periodi precisi ci offrono senso di orientamento e di continuità spazio temporale insomma in Europa la città parla in Illinois e questo capite in molti pezzi d'America e in generale poi contribuisce a dare questa sensazione che a volte poi non è una sensazione ma è molto concreta che anche nei nostri tentativi di capire quel posto e anche di comunicare con le persone del posto qualcosa rimanga sempre come dicono gli americani lost in translation cioè c'è qualcosa che si perde che è qualcosa che noi non afferriamo qualcosa che loro non afferrano di noi e questo accade probabilmente in un qualsiasi posto diverso da quello in cui ci troviamo ma lì appunto c'è questa familiarità che a volte ti porta fuori strada o comunque ti lascia molto spiazzata a volte ti convince di sapere delle cose quando in realtà non le sai e allora farei un salto e immaginiamo di continuare il nostro viaggio spostandoci dall'Illinois e andando invece a Seattle e ti chiederei se ci racconti uno di questi equivoci culturali se vogliamo che racconti nel libro che ruota attorno alle camicie di flanella che non abbiamo capito noi qui in Europa in Italia ci hai spiegato in questo libro in che senso non abbiamo capito le camicie di flanella vanno forte in questi giorni e allora in realtà altra cosa io vado appunto a Seattle come vado a Seattle perché dopo il viaggio in Illinois mi ero fatta regalare dalla famiglia che è qui un viaggio sulla West Coast da sola per i miei 30 anni ormai ne avevo 31 ma insomma andai 5 settimane da Seattle a San Diego viaggio stupendo in cui effettivamente mi successero un sacco di cose particolari ma in cui continuai a vivere questa sensazione un po' appunto di smarrimento di sorpresa e in quel caso era molto semplice la questione io entravo in tutti i locali ma anche andavo in giro semplicemente e mi sembrava di vedere di essere negli anni 90 di vivere esattamente quell'era storica a partire da come erano vestite le persone allora c'è una cosa che io cerco di fare quando sono negli Stati Uniti da sempre cioè interrogare prima me e dire ma perché ti sembrano gli anni 90 come erano gli anni 90 a casa tua prima di pensare che forse sto capendo qualcosa di incredibile sugli Stati Uniti penso ma perché questa cosa ti fa strano io vedevo tutti che giravano con la camicia di flanella e mi sono la camicia di flanella quella a quadri la camicia a quadri che molte persone indossano ancora oggi e questa cosa mi stupì la registrai così come registrai che la prima cosa che insomma senti dalla radio non appena misi piede a Seattle fu la canzone la canzone più famosa del Nirvana proprio in aeroporto a Seattle io sento Smash Like Teen Spirits e dico ma ok tutti con le camicie di flanella intorno pensi che sia uno scherzo ti hanno organizzato un flash mob esatto che strano e continuo ad andare in giro poi insomma una cosa che scrivo nel libro in cui credo molto è che quando una persona viaggia da sola i sensi sono molto attivi perché devi osservare tante cose anche solo per capire dove devi andare perché non hai nessun altro a cui chiedere insomma quindi io ero molto ricettiva e queste cose le registrai semplicemente e poi come spesso succede come avrete probabilmente capito mi venne incontro la letteratura e anche la musica in quel caso mi vennero incontro attraverso un saggio inizialmente che non cito nel libro ma qui che ho letto e riletto e a cui ho pensato molto che metteva in fila tantissime persone note scrittori musicisti che bazzicarono da quelle parti dalla grande depressione quindi gli anni 30-40 in avanti e questa saggista ma e poi tanti altri scritti tra cui quello di Raymond Carver raccontavano di persone di uomini soprattutto che dovevano lavorare da quelle parti i lavori che si facevano durante gli anni 30-40 erano lavori legati all'agricoltura e alle grandi infrastrutture la costruzione della diga sul fiume Columbia e tutto quello che nasceva e cresceva da quelle parti aveva ovviamente a che fare con l'ambiente il clima il clima di Seattle è una cosa di cui siamo consapevoli tutti è un mito a Seattle piove sempre è vero abbastanza era vero ora col cambiamento climatico le cose stanno cambiando ma insomma questa umidità era stata come dire la causa pratica concreta per nulla poetica del perché queste persone indossassero le camicie di flanella la flanella tra l'altro da quel momento io la indossavo perché sono una figlia degli anni 90 e mi piacevo il Nirvana e volevo in Italia appartenere a quel gruppo ma oggi che viaggio tanto nelle zone umide io indosso sempre la camicia di flanella perché le temperature sono magari moderate non fa tanto freddo ma c'è tanto umido e niente meglio della flanella protegge dall'umido quindi questi ragazzi i ragazzi del grange che poi su cui si puntarono i riflettori del mondo a un certo punto si attole questa è la storia interessante che si attole rimase nascosta fino a settembre del 1991 il giorno in cui la prima radio suonò Smells Like Teen Spirit da quel momento i riflettori del mondo videro Seattle e questi con le camicie di flanella e questi stavano con le camicie di flanella si creò una specie di una moda anche la moda degli anni 90 che rispecchiava il modo in cui quei ragazzi andavano in giro non che loro avessero inventato chiaramente le camicie di flanella né che le mettessero per qualche ragione legata alla moda le mettevano perché erano le camicie dei loro padri e dei loro nonni cosa devono aver pensato quando il resto del mondo pur non avendo quel tasso di umidità a cominciare qualcuno si sparò perché è vero adesso l'ho fatto un po' dark humor però anche quello è un fatto che riguarda tanto Seattle e questi ragazzi erano tutti ragazzi i ragazzi del grunge erano tutti amici tra loro chi suonava la batteria in un gruppo cantava in un altro gruppo si trovavano tutti nel basement a far passare se giornate che non finivano mai grigio sotto e c'è questo pezzo bellissimo che dice di una scrittrice che poi riporto e che ho fatto mio in qualche modo non c'è niente che come più non c'è niente come l'esposizione l'esposizione queste nuvole che si squarciano i riflettori del mondo che entrano dentro Seattle ecco chi è abituato a vivere sotto quella coltre di nubi vive in maniera dirompente e disastrosa questo squarcio delle nubi ed è per questo anche che tante persone tanti uomini tanti ragazzi del mondo del grange poi a un certo punto si sentirono traditi da questa Seattle in qualche modo adesso la faccio un po' un po' breve però è incredibile come poi il clima non è cambiato il grange è finito ma le camicie di flanella sono andate avanti ed è l'abbigliamento normale di un contesto geografico restiamo a Seattle cioè oddio mi sono sentito sapete quando al ristorante vi aprono una bottiglia di vino un ristorante un po' diciamo un po' fancy e ti dicono siamo in Veneto e tu dici ma no in realtà siamo a Torino noi in realtà stiamo un po' viaggiando quindi abbiamo qualche titolo in più per fare questo questo giochino allora restiamo effettivamente a Seattle perché Seattle è una città che è famosa per molte cose il grange questo cielo grigio perennemente grigio in un contesto però verdissimo perché Seattle è una città molto verde viene chiamata la Emerald City la città color smeraldo certi altri magari la conoscono per Amazon negli ultimi anni è un'altra caratteristica che ha Seattle è una caratteristica che hanno anche molte città californiane in generale la West Coast te ne accorgi non appena arrivi in città ed è una quantità impressionante e impossibile da non notare di persone che vivono per strada niente a cui si può essere abituati niente di paragonabile anche a quello che c'è a New York in tante città americane in cui comunque le persone senza letto sono tante ma a Seattle sono veramente tante e tu racconti non solo quando vedi tutto questo e lo sconcerto racconti anche il modo in cui provi a fare i conti con quello che guardi leggo un pezzetto dal libro e poi ti chiedo una cosa feci spazio dentro di me scrivi per accogliere la visione di quelle persone per prendere atto della loro esistenza in un mondo in cui non avrebbero dovuto esistere e cercai di preservare quello spazio negli anni il più vicino possibile alla parte che rende noi umani delle cose sacre avrei accettato ogni genere di paradosso dagli Stati Uniti ma non avrei mai accettato questo nel paese più ricco del mondo la dignità di una parte dei suoi abitanti decine di migliaia in ognuna di quelle grandi e moderne città non poteva pensavo valere così poco non sapevo ancora che nello spazio sacro della mia piccola persona ne sarebbero finiti ben altri di paradossi inaccettabili il razzismo le bugie il suprematismo bianco Trump i massacri nelle scuole i difetti dei propri amori finiscono per diventare anche le ragioni per cui li amiamo le atrocità richiedono invece qualche atto di coraggio in più questa frase questo passaggio sui difetti dei propri amori i difetti dei nostri amori in questo caso mi ha colpito e mi è rimasta impressa per un po' qual è il tuo rapporto con i difetti di questo amore e quelle cose che forse sono anche troppo grandi per definire le difette difetti e come è possibile conciliare questa passione con le atrocità di cui racconti anche nel libro beh questa è ogni volta che si presenta in maniera molto vivida la manifestazione di uno di questi di queste atrocità per me è un esame di questa relazione molto forte non è l'unico che racconto lì dentro ce ne sono diversi e a un certo punto forse la frase che ricordo di più del mio stesso libro è incredibile come un paese avvantaggi spinga non lo dico così lo dico meglio ma spinga tutte le persone verso un obiettivo grande dia tante possibilità a tutti senza però proteggere la dignità di tutti questo effettivamente faccio fatica anche a parlarne perché l'esperienza perché non è neanche la visione ormai siamo andati oltre ma è l'esperienza di queste atrocità così come i mass shooting i momenti dopo Uvaldi l'ultimo uno degli ultimi massacri dei bambini piccoli nella scuola texana scrissi un'altra cosa è così difficile amare un paese così fosco perché gli Stati Uniti riescono veramente a essere un paese così fosco per me è un esame appunto di questa relazione ogni volta che mi trovo in un momento del genere ho la manifestazione di questa atrocità è veramente molto forte ed è un esame che si risolve vi confesso ogni volta insomma sono qui quindi con l'idea di persistere e di continuare forse non userei più il termine amore verso gli Stati Uniti ma questo amore è diventato sì una passione ma anche soprattutto un interesse l'interesse è anche qualcosa forse di più distaccato tante volte ho pensato che che non l'avrei più fatto che non l'avrei più portata avanti questa relazione per me che sono cresciuta in un certo modo che ho certi valori che credo anche in una certa idea di comunità per non dire di Stato dover scavalcare una persona incosciente nella metropolitana di New York per andare a prendere la metro doverla scavalcare vedere che tutte le persone intorno a questa persona non fanno niente nessuno dice niente nessuno fa niente poi comunque non è che sono non è la persona singola che deve fare ecco ogni volta è un riesame di questa relazione e tante volte una è dentro il libro anche ho pensato basta per me è troppo ora non lo faccio più e studierò il Portogallo esatto è un posto più esatto scusate volevo alleggerire un attimo no basta no però è vero io mi sono trovata negli Stati Uniti in Texas davanti al confine con il Messico la notte delle elezioni di Trump quel momento lì è stato un momento difficilissimo per me da poter accettare non era solo la questione di una vittoria politica di un uomo che non mi piaceva ma era la dimostrazione del fatto che negli Stati Uniti c'erano tantissime cose tantissime persone che credevano in cose che io ritengo aberranti inumane perché poi non stiamo neanche più parlando di repubblicani democratici per me si va oltre beh sono qui quindi questa questa lotta si rinnova ogni volta che sono negli Stati Uniti ogni volta che succede qualcosa di particolarmente grave ogni volta che faccio esperienza di qualcosa però appunto l'interesse verso queste contraddizioni l'interesse verso questa terra forse quello si è rafforzato forse l'amore è scemato o forse è così che l'amore a un certo punto una cosa matura per cui accoglie anche le cose così fosche non ho una risposta però l'interesse è quello c'è l'interesse è diventato molto più professionale e forse meno personale l'influenza e la rilevanza che ci piaccia o no qualsiasi cosa accada negli Stati Uniti a fronte di queste atrocità non ci permette probabilmente di dire occupiamoci del Portogallo nel senso vive il Portogallo però girare la testa dall'altra parte non le rimuove non fa diminuire la loro importanza e rilevanza e quindi anzi ti costringe a interessarti di più probabilmente questo tema partivamo dalle persone senza tetto che sono uno dei più grossi drammi umanitari nelle città statunitensi non è unico lo dicevamo prima di Seattle coinvolge tutte le grandi città in particolare quelle della costa ovest e una delle città più coinvolte è Los Angeles in cui c'è un intero quartiere della città che si chiama Skid Row che è una tendopoli un quartiere tendopoli come non ci si aspetta di trovare non nell'estrema periferia della città ma a due passi dal centro e questa è una delle molte cose spiazzanti di Los Angeles che ci spostiamo quindi andiamo verso sud restando a ovest che è una città grandissima sterminata in termini proprio di superficie che l'intera area metropolitana di Los Angeles è composta da più di 80 comuni diversi attaccati tra loro è grande quanto la Campania ma è tutta città la vista dal famoso osservatorio Griffith di Los Angeles è una vista che mostra città a perdita d'occhio e non siamo abituati a distanze così grandi non sappiamo orientarci in città che sono fatte in questo modo e che hanno così tanti centri e leggendo del racconto che fai di Los Angeles è molto facile riconoscere il titolo di questo libro o la sensazione del titolo di questo libro sparire qui perché Los Angeles è un posto così allo stesso tempo forte di un'identità che c'è ma che non è evidente come quella di un posto come New York per esempio arrivi a New York senza esserci mai stato e nel giro di tre giorni ti sembra che la città si sforzi di mostrarsi a te stesso poi non ci capisci nulla comunque però arrivi a New York e vedi un sacco di posti che conosci la città è una città che si gira facilmente soprattutto Manhattan ci si orienta in un attimo arrivi a Los Angeles ed è molto complesso capire ma non solo le prime due ore le prime due settimane forse dove sei arrivato questo però ti dà una grande sensazione di libertà che che accomuna poi i viaggi in America in generale ma secondo me a Los Angeles in particolare la libertà di non essere nessuno tu dicevi prima di rinunciare all'altro nome ma rinunciare a qualsiasi cosa a Los Angeles può sparire effettivamente ci racconti perché questo titolo e che legame ha con Los Angeles sì io sono molto legata alla città di Los Angeles è la mia forse ancora la mia città preferita per una per una sottrazione forse che fa parte anche del titolo perché è una città che io non riesco a vivere ho scoperto dopo esserci stata tantissime volte che vorrei tanto saperla vivere ma non non posso viverla perché innanzitutto perché è immensa sicuramente ha bisogno di un'automobile cose cose anche molto pratiche ma soprattutto perché Los Angeles esercita una potenza che non esercita nessun'altra città in cui io sia mai stata ed è una potenza che molte persone non colgono io me ne rammarico tantissimo perché tante persone noi europei andiamo negli Stati Uniti andiamo a Los Angeles ci passiamo in mezzo diciamo che brutta ma guarda per non far sentire nessuno la prima cosa la prima volta che sono stata a Los Angeles sono anche tornato e l'ho anche detto in un podcast che l'ho trovata bruttarella che cretino diciamo però è vero è una cosa molto sincera è vero che arrivi a Los Angeles se non capisci dove devi andare e dici boh cemento strade è tutto qui in realtà io ma forse te ne ricorderai se ne ricorderanno le persone io ogni volta che mi avvicino in aereo in macchina in treno a Los Angeles io comincio a sentire proprio lo sento proprio qua una potenza tellurica tellurica lo dico anche perché è un posto pieno di terremoti è una sensazione che arriva proprio dalla terra dagli elementi Los Angeles è Los Angeles in primis per i suoi elementi la luce la terra l'oceano le spiagge e questa potenza degli elementi si percepisce fortissima subito anche perché appunto l'architettura è bruttarella e quindi le cose a cui ti affidi sono passano attraverso altre sensazioni il punto è che questi elementi da soli che sono anche molto belli perché Los Angeles indubbiamente gli elementi naturali di Los Angeles la luce in primis è incredibile non bastano a renderla una città pacifica una città facile una città positiva è una città molto sinistra è una città che invita tantissime persone ad andare a viverla e poi le tradisce una per una chiunque anche quelle che hanno successo anche quelle che la amano anche chi vi risiede i compromessi a cui devi scendere per vivere a Los Angeles sono tantissimi non soltanto a livello economico anche appunto il modo in cui devi percorrere lo spazio e ne hai tantissimo e questo spazio è l'ultimo americano no? è la fine della frontiera ed è il posto delle illusioni delle illusioni tradite è il posto in cui James and Roy ci racconta di queste donne attrici ragazze che hanno lasciato tutti i loro sogni al parrucchiere dell'Illinois letteralmente per andare a fare fortuna e diventare attrici a Los Angeles Joan Didion autrice incredibile ci racconta di un'altra donna che percorre tutte le strade di Los Angeles e riesce a essere in pace con se stessa solo quando non trova traffico e riesce a non fermarsi mai non mettere mai il piede sul freno girando per tutte queste strade infinite di Los Angeles Los Angeles è la strada quando voi avete visto La La Land la prima scena iniziale di La La Land in cui bocciano non bocciano neanche ma insomma coda scendono tutti iniziano a ballare quella è una cosa molto reale cioè nessuno smette a ballare ok però la coda in strada il fatto che tutti viaggino da soli e l'unico modo che hai lo scrivo nel libro per incontrare qualcuno è bocciare o insultare quello davanti no e infine io provavo tutte queste sensazioni e pian piano ho imparato a riconoscerle c'è questa scena magistrale di uno dei miei autori preferiti che racconta nel suo primo libro questo ragazzo aveva vent'anni lui Ellis Brattiston Ellis aveva vent'anni faceva parte della Los Angeles Bene racconta in meno di zero il suo primo romanzo scarno essenziale protagonista Clay Mulholland Drive Sunset Boulevard strade che hanno un nome che è già solo un mito e Clay a un certo punto sente dell'inquietudine ma non le dà un nome non è capace a dare un nome alla sua inquietudine è troppo alieno da sé per riuscire a dare un nome alle sue sensazioni però a un certo punto mentre lì che rimugino in macchina e sono sempre in macchina questi ogni storia di Los Angeles è una storia di una strada di qualcuno per strada vedo un cartello un cartello pubblicitario di un resort un resort di vacanze dove dovresti stare bene che dice disappear here sparire qui e lui non la vede la registra come ho fatto io con le altre cose e poi la rivede 5-6 pagine dopo e quella cosa lì gli risuona gli risuona dentro e va a solleticare tutte quelle emozioni sopite che però lui potrebbe non poteva non percepire di inquietudine di solitudine di minaccia quindi sparire qui è teoricamente qualcosa di molto bello perché tu vorresti sparire in un resort e scialarti stare bene fare una bellissima vacanza come Los Angeles ti invita a fare l'illusione il mondo perfetto ma non puoi e non riesci e io volevo che questo titolo fosse il titolo del mio libro l'ho desiderato molto perché racconta molto del mio rapporto con gli Stati Uniti sparire lì sparirci con un'intenzione molto positiva e molto spesso essere tradita da quell'idea ma anche semplicemente sparire come persona appunto e diventare un'altra cosa cioè quel titolo funzionava per tante cose anche per acchiappare un po' lettore in libreria però per me aveva proprio quell'immagine di Brattison Ellis in meno di zero attrainato fortissimamente anche tutto il resto tutti gli altri capitoli per me quello doveva essere il titolo sin dall'inizio ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciare a voi la parola quindi vi invito a preparare delle domande a pensare se stavate chiedendovi qualcosa potete chiederlo direttamente a Marta perché credo che sia un'esperienza piuttosto comune poi questa di imbattersi leggendo o viaggiando in una frase in due parole in tre parole che magari non hanno un qualche significato profondo in questo caso era la pubblicità di un resort a me capita di trovare una grande lezione di vita negli specchietti retrovisori delle macchine americane che dicono the objects in the mirror are closer than they appear cioè le cose che vedi allo specchio dietro di te sono più vicine di quello che sembrano ma anche Bridge May Ice in Cold Weather è un cartello stradale americano che dice quando fa molto freddo il ponte si congela prima della terraferma c'è anche adotta un'autostrada adotta un'autostrada cioè vedi delle cose delle parole che sono degli slogan dei messaggi di pubblica utilità e ci trovi un qualche significato un'esperienza molto comune per tutti noi dentro il libro scopriamo quali e quante di queste parole che magari sono state rivolte da qualcuno e ce lo racconti hanno assunto anche per il momento in cui sei andata a fare quella determinata cosa hai visto quel determinato posto hanno assunto un grande significato e vale per New York di cui si parla nel libro vale per il New Jersey di cui si parla nel libro vale per il Colorado questo è un viaggio che ci porta in tanti posti diversi degli Stati Uniti peraltro in tanti momenti diversi anche non solo della tua vita ma della vita degli Stati Uniti e ti chiedo l'ultima cosa su una di queste frasi su una di queste cose che ti viene detta a un certo punto probabilmente senza che chi te la dicesse pensasse adesso impartirò a questa donna una lezione di vita e questa frase la ricorderà per sempre ma forse ha avuto su di te questo effetto o meglio questo è quello che racconti quando a un certo punto un cowboy texano in un contesto in cui tu eri già stata diciamo esposta a una serie di messaggi contraddittori dal Texas perché il Texas deve essere un posto molto bellicoso violento per certi versi e anche molto accogliente e gentile questo cowboy ti dice apologizing is bullshit ce la traduci tu intanto e ci dici qual è il significato non tanto che aveva in quel contesto se vuoi ma che ha avuto per te questa frase che si ricollega speravo che finissi col Texas ma del resto che si ricollega effettivamente anche è un cerchio che si chiude rispetto anche alla prima domanda io e Valeria che è diventata una coprotagonista del libro a un certo punto eravamo in Texas a Bandera e andiamo a ballare e ci invitano questi due signori questi due cowboy a ballare tra l'altro in un modo solo texano no? perché questi uomini erano chiaramente molto galanti ma con un rispetto e con una curiosità che travalicava la galanteria ed erano anche sembravano due camionisti più che due cowboy ma erano di una delicatezza pazzesca ci invitarono a sparare ovviamente insomma erano tutto un contesto texano molto molto texano e a un certo punto Valeria raccontava che lei non mangia carne perché allergica all'enzimo della carne e quindi si premurava di dire a questi due signoroni texani che lei appunto si scusava perché lei non è che non mangia carne per un credo vegetale ma proprio non può e questo signore il contesto è che in Texas mangiano soltanto la carne che è una religione sacra al terzo giorno di viaggio in Texas di solito uno non ne può più anche se la carne di solito la mangia e va a cercare delle insalate per poi scoprire che ti mettono anche la carne nell'insalata quindi è un po' come se vieni qui e dici beh le nocciole il vino cioè hai un po' paura di risultare maleducato certo e in più appunto con questa idea che i texani no se la prendono e questo signore ci dice e io anche rincaravo la dose del racconto di Valeria no perché guardate scusate sappiamo che in Texas lui pacifico ci dice apologizing is bullshit cioè chiedere scusa per come sei è una stronzata è una cosa che non bisogna fare fuori contesto sperando di essere delle brave persone diciamo ogni tanto potrebbe capitare che sia utile esatto esatto per il fuori contesto risulta una frase molto spocchiosa anche un po' no che ti intimorisce perché dice insomma più o meno però questa cosa si incastrava perfettamente innanzitutto con il ritratto del Texas e dei texani che si andava delineando in quella in quel viaggio in quella circostanza che sono persone che non chiedono scusa per come sono e questo non ha un'accezione soltanto negativa ma attenzione questo può avere anche un'accezione molto positiva e molto inclusiva e vi assicuro che in Texas le due cose coesistono per quanto sia sempre la narrazione più appunto retrograda forse che prevale ma in generale l'idea era qua questo il Texas proprio è il posto in cui tu ti devi sentire libera di essere esattamente come sei e se tu manifesti questa tua libertà nessuno da noi almeno in Texas ti verrà a dire niente perché noi crediamo proprio in questo valore è per noi che in quel momento ne capivamo la bontà perché vi assicuro che la difficoltà mia sua di chiunque si occupi di Texas e di Stati Uniti è proprio far capire che l'oretta che ci vive è proprio far capire questa accezione positiva del non doversi scusa del poter essere libero e libera davvero di essere quello che sei perché così va bene perché così va bene qualsiasi cosa che tu fai certo poi la politica la società le regole le norme i valori sono un'altra cosa ma la libertà personale che viene prima di tutto negli Stati Uniti ha in veste della sua potenza tutte le persone che ci mettono a piede in primis in Texas Marta Cecolare Micaldi Francesco Costa grazie grazie mille 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 Grazie a tutti